Buongiorno, ben trovati giovedì 25 aprile 2019, giorno della festa della liberazione, un saluto dalla nostra redazione, appuntamento come sempre con Mattino 6, come ogni mattina per la lettura dei quotidiani, partiamo dalle prime pagine dei giornali abruzzesi, siamo al centro, ecco qui la prima pagina dell'edizione di Pescara, vedete il titolo di apertura, Naia, arrivano anche i sigilli, il Tribunale ha dichiarato il fallimento del progetto Sport, la società che gestisce l'impianto. Dicevamo il 25 aprile, tante le iniziative che si terranno oggi nella nostra regione, vedete nella foto pubblicata dal centro, il partigiano malvestuto dice mi sento un uomo di pace, i ricordi dell'ex ufficiale sulmonese della brigata Maiella. Siamo alle cronache, giallo di Pineto, anche i pescatori cercano Roberto Sciarra, il pescarese è sparito sabato scorso da Pineto nel vertice di ieri in prefettura a Teramo, è stato chiesto di chiedere l'aiuto delle barche della piccola pesca. A Montesivano la politica, passo indietro del sindaco uscente Maragno, sosterrà il vice De Martinis come capolista di Forza Italia. Scienze alimentari, Vienna, premio ad un ricercatore spoltorese. E poi torniamo a Pescara, mio marito ucciso senza un perché, parla la vedova di Salvatore Russo ammazzato un anno fa dal vicino di casa. Parliamo anche di sport perché sabato torna il campionato di Serie B e sale la febbre per Pescara Verona che si giocherà alle 15 allo stadio Adriatico, almeno 10.000 tifosi per la sfida playoff contro la formazione scaligera, tifosi pronti a spingere il Delfino in questa importante gara. Vediamo la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto del centro, titolo di apertura, eccolo qui, multe, un tesoretto di 3 milioni, Chieti il Comune conta sulle infrazioni del codice della strada per risanare i conti. Vediamo nelle cronache, andiamo a Torricella Peligna, ladri devastano una scuola portati via 20 computer e poi a Chieti ruba in villa, no al permesso di soggiorno. E poi andiamo ancora più in basso per spostarci ad Ortona, un impianto per biomasse a Caldari. C'è un'altra notizia in prima pagina, eccola qui, nella parte bassa, abusi sulla nipone non arrestato, Val di Sangro, pensionato di 80 anni ai domiciliari, presunte violenze scoperte dai medici. C'è anche una notizia che riguarda il calcio, Chieti i tifosi contro la società, gli ultracontestano il patrone di Giovanni, deve andare via, chiedono i tifosi nero-verdi. Andiamo a vedere la prima pagina del centro di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, il lavoro in primo piano, Intex, il grido dei 70 lavoratori, L'Aquila ha rimosso il camper della protesta e all'accordo i sindacati chiedono garanzie. L'Aquila, ricostruzione, biondi ai grillini, servono fatti, dice così il primo cittadino dell'Aquila. Dall'Aquila ci spostiamo ad Avezzano, nella Marsica, sul mercato, si gioca il futuro. Della giunta De Angelis. Poi ci spostiamo in Valle Pelini, a Pettorano sul Gizio, l'Orsa Peppina fa strage in un pollaio. Vediamo anche un altro titolo che ci riporta ad Avezzano. Oggi la fiera tra controlli e divieti. Ad Avezzano, grande spiegamento di forze, tolleranza zero. Sono 130 gli ambulanti. E poi ad Avezzano, social scatenati, proposta di nozze su Facebook, la richiesta dell'ex calciatore di Loreto alla sua compagna. Vediamo anche la prima pagina di Teramo, del centro, zopofriattico via al mega appalto. Teramo, i lavori da 17 milioni per la nuova sede, aggiudicati ad un consorzio di Ravenna. A Nereto, rissa tra tifosi, stadio vietato per quattro supporters di Penne e Nereto, dopo quanto accaduto in occasione della gara di campionato tra la formazione teramana e quella vestina. Andiamo a Giulianova, centro-sinistra, salta l'accordo elettorale, dunque ad un mese dalle elezioni, ancora tutto in gioco. E poi ancora, cronaca, furiosa lite fra genitori alla partita, arriva la polizia alla gara di pallavolo under 16 fra Montorio e D'Annunziana. Parliamo anche del Teramo, il Teramo che dopo la vittoria con la Vispesaro ha praticamente messo al sicuro in cassaforte la salvezza, parla il portiere Pacini. Il Teramo può battere tutti, il portiere lancia i biancorossi verso la conquista dei play-off, che sono ancora matematicamente possibili per la formazione biancorossa. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero, come per il centro, il titolo di apertura riguarda le naia di capolinea naia di fallimento. La sentenza del Tribunale di Pescara, depositata ieri, complica la crisi dell'impianto, sono tanti i lavoratori senza stipendio. La Regione punta alla rapida ripresa dell'attività. Chieti, lo stadio del nuoto non si vende più, bando per la gestione. E poi vedete di spalla il premio Giustolisi, rende onore a Pietranzieri, il piccolo centro, in provincia dell'Aquila, nell'Alto Sangro. E poi vediamo la cronaca, bimba abusata, 11 anni, arrestato il nonno. Teramo, Castronio, scoppia in Parlamento, il caso del carcere. E poi boom in Abruzzo, il bilancio dei ponti di primavera, Castello e trekking, il pienone di Pasqua nella nostra regione. Vediamo anche un altro titolo che riguarda la sanità, intervento record contro il Parkinson, nuova cura all'Aquila. Andiamo poi nella parte alta della pagina per vedere altri titoli di notizie che poi ritroveremo all'interno del giornale. L'Aquila rinasce, Santa Maria ad Criptas, la grande bellezza, torna domenica. E poi ballando con le stelle, Razzi, un addio con offese, la moglie lo difende, chiedono scusa. E poi il calcio di Serie B, il pescarese grosso, si gioca la panchina nella sua città. Grosso, allenatore del Verona, ospite sabato allo stadio Adriatico. Siamo alla prima pagina del quotidiano La Città, presentato il ricorso sull'asta della Teramo Ambiente per il Teramano Iachini. L'ex amministratore trevigiano Gavioli non avrebbe potuto partecipare. Vediamo poi a centro pagina, trionfo della pace, domenica la festa dei quartieri con il corteo storico a Teramo. E poi l'istituto zooprofilattico caporale, tutto un cantiere in appalto un altro blocco della sede di Colle Atterrato. E poi Pezzopane e Castronio, oltre i limiti del bene e del male, dice la senatrice Aquilana, parlando dei problemi che ci sono nella casa circondaliare Teramano. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, siamo all'edicola nazionale, ai giornali nazionali oggi in edicola. Partiamo dalla verità, falsa intercettazione contro Siria, in procura smentiscono i presunti scoop, scrive la verità. Poi il Pacifico Macron schiera truppe al confine russo, vedete nella foto il presidente francese. Poi ancora più in basso, l'ISIS è vivo, la strage di Pasqua è solo l'inizio. Vediamo il prossimo quotidiano che è il Sole 24 Ore, insegnanti 100 euro di aumento mensile, ok a 40 mila precari. E' stato raggiunto l'accordo tra sindacati e governo, così è stato sventato il rischio sciopero che era stato proclamato proprio dai sindacati. Siamo alla stampa di Torino, crescita scommessa da 2 miliardi. Il caso Siri agita il governo, Conte chiama il sottosegretario, voglio vederlo, poi decido. La base leghista, elezioni subito. E poi vedete questa foto, questa foto a centro pagina, la rivincita di Kimi, il dittatore nordcoreano accolto in Russia come una star. Vediamo il tempo di Roma, Salvini, giro di vite sulle moschee, vertice al Viminale, sulla sicurezza del paese sotto controllo. I luoghi di culto, Sala Fita in Italia. Vediamo anche il prossimo giornale che è Il Fatto. Conte decide, Siri è fuori dal governo, non mi fido di lui. Questo è il titolo nella parte alta della pagina. Il Premier Conte dice via prima delle europee. E poi l'intervista al Presidente della Camera, Roberto Figo. 25 aprile, Salvini sbaglia a disertare, ringrazio i partigiani, se ministro, dice il Presidente della Camera. Siamo al mattino di Napoli, governo, ora volano gli insulti. Salvini e 5 Stelle, sulla mafia sciacquatevi la bocca. Di Maio non siamo paraculi, queste le parole usate che leggevo qui nel titolo del mattino. E Conte rinvia la decisione su Siri, prima gli parlo, ma il sottosegretario non si dimetterà. E poi andiamo a vedere anche il prossimo quotidiano che è Il Libero. Chi perde voti perde la testa, scrive Libero. Movimento 5 Stelle in stato di totale confusione. Questo è il titolo di apertura del quotidiano milanese. Di Maio va a Taranto per fare passerella, ma lo fischiano a fallimento. Scusate, grillini isterici incolpano la lega del loro fallimento, puntano a far cadere il governo per salvarsi, scrive Il Quotidiano Libero. Andiamo a vedere anche il manifesto. E qui la festa, nel 74esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. L'Italia democratica celebra il 25 aprile. Le tragiche memorie della guerra e la storia della resistenza uniscono il Paese, scrive Il Manifesto, che oggi combatte nazionalismi e razzismi. Mattarella, no a revisionismi, ma i fascisti provocano. E poi ne parlavamo prima. Niente sciopero. Trovato l'accordo scuola. Promesse di aumenti di stipendio sui precari impegni sull'unità del Paese. È stato trovato l'accordo tra i sindacati della scuola ed il governo. Dunque non ci sarà lo sciopero. Vediamo anche il giornale. Governo benzina sul fuoco, tutti contro tutti. Tensione sempre più alta tra Lega e Grillini sul caso Siri. Poi vediamo il messaggero nazionale. Salvano Siri, ma non Roma. Questo è il titolo di apertura. Scambio di insulti nel governo. Salvini, chi parla di mafia? Si sciacqui la bocca. Poi la lite con Di Maio. La Lega blinda il sottosegretario, ovvero Siri. Conte rinvia il chiarimento. Dimezzati i benefici per la capitale. Poi vediamo anche un titolo che riguarda lo sport. Coppa Italia. La Lazio batte il Milan ed è in finale. Impresa a San Siro della formazione capitolina. Nel secondo tempo il gol vittoria di Correa. Vediamo anche la Repubblica. Vedete il titolo con il corredo di foto. Oggi 25 aprile. Mattarella, la storia non si riscrive. Da Baritko a Zagrebeschi. 25 voci di liberazione Milano a Piazzale Roreto. Stricione pro Mussolini. Allarme per le provocazioni neofasciste. Siamo al Corriere della Sera. Ecco, si parlava di uno stricione che era stato esposto ieri a Milano. Lo vedete? Questo lo stricione esposto proprio in pieno centro a Milano. Un inno al Duce Milano. Lo sfregio degli ultralaziali. Stricione per Mussolini. Saluto Romano. Sfregio degli ultralaziali in Piazzale Roreto. Ieri a Milano superati i limiti. Protesta il sindaco Sala. Questo è il titolo con questa notizia che poi è all'interno del giornale su questo stricione che è stato esposto ieri a Milano. Casso Siri, l'ora degli insulti. Il sottosegretario del Carroccio indagato, il Quirinale preoccupato per le tensioni nel governo. E questo era l'ultimo quotidiano che abbiamo preso in esame per quanto riguarda la nostra edicola nazionale. Siamo al centro. Ripartiamo dunque dalla cronaca che riguarda la nostra regione. Siamo a pagina 2. Si parla ovviamente della ricorrenza del 25 aprile in Abruzzo. Si parla della brigata Maiella. Malvestuto, io partigiano, mi sento un uomo di pace. I ricordi dell'ufficiale di Sulmona, le bombe sulla testa e quel bacio a Bologna. E poi vedete anche l'altra pagina con i ricordi di Malvestuto. E poi le armi consegnate dalle forze alleate a quei giovani eroi. Il quarantenne Avvocato Troilo fu il capo del gruppo Patrioti che risale in Italia per liberarla dall'occupazione nazifascista. A Pietranzieri i tedeschi massacrarono 128 persone a Sant'Agata di Gesso Palena. 42 sfollati. Ci saranno tante iniziative oggi in molte città della nostra regione proprio per la ricorrenza del 25 aprile. Noi ora parliamo di lavoro. Nuovi incentivi per chi assume giovani. 120 milioni dal bonus Sud. Sgravi contributivi fino a 8 mila Euro. Per chi entra in azienda dal primo maggio. Le domande vanno presentate all'Inps dopo il via libera 10 giorni. Per i contratti. Vediamo anche di spalla questo titolo. Università, borse di studio. Sì al pagamento agli studenti in graduatoria. Vediamo anche il titolo in basso in grigio che riguarda i ricorsi elettorari. La regione è davanti al TAR per evitare la consulta. Poi andiamo in basso. Cooperative edilizie calano gli addetti. Il dato della UE Coppa Abruzzo si riferisce al 2018 ma le compravendite delle case salgano del 5,4%. Siamo alle cronache. Dalle province partiamo da Pescara. L'impianto sportivo nella bufera. Naia di arrivano anche i sigilli. La progetto sport è dichiarata fallita. Come vedete questo è il titolo di apertura del centro in cronaca di Pescara. I giudici del Tribunale hanno rilevato varie anomalie dai bilanci della società che ha gestito le piscine. A dicembre 2017 il 100% delle quote è stata ceduta per 900 euro a Serraiocco, Dorazio e Colaneri. Vediamo questa dunque la pagina che riguarda la questione delle naia di l'impianto sportivo tra l'altro chiuso in questi giorni per problemi tecnici alle caldaie. Restiamo a questo argomento. Il 3 maggio l'apertura delle buste. L'assessore regionale Febo. Intanto procediamo all'affidamento temporaneo. Dunque tra breve verranno aperte le buste. Intanto lunedì scatta la protesta di lavoratori e famiglie. Si tinne di tre ore dalle 15 alle 18 sotto la sede della regione in via Passo Lanciano. Il sindacalista Cupido. Saremo tantissimi. È giusto che la città sappia. E poi ancora scuola nuoto. I genitori dei 130 bambini minacciano denunce e abbonamenti da 580 a 650 euro. Lasciamo la questione naia di parliamo invece del giallo di Pineto. La scomparsa del 42enne pescarese Roberto Sciarra. Vedete il titolo di apertura di pagina 16. Anche i pescatori cercano sciarra in mare. Ancora nessuna traccia del 42enne pescarese. Da oggi sarà diramato l'allarme alle imbarcazioni impegnate sotto costa. L'omicidio di via Pian delle Mele. Mio marito ucciso senza motivo. Nessun perdono. Voglio giustizia. Il 25 aprile di un anno fa Salvatore Russo fu accoltellato a morte dal vicino di casa Roberto Mucciante. La vedova del muratore dice voglio sapere perché lo ha fatto dall'omicida. Nessun segno di pentimento. Intanto l'inchiesta procede verso il traguardo. L'inchiesta della procura di Pescara. Siamo alla politica. Verso le elezioni manca un mese esatto all'apertura delle urne. Si andrà al voto per le amministrative e anche per le europee il prossimo 26 maggio. Ieri c'è stata la presentazione delle liste del candidato sindaco Gianni Teodoro che è assessore uscente della giunta Alessandrini. Tra i 32 candidati medici, ex politici, pensionati, insegnanti e commercianti. Gli obiettivi, le priorità di Teodoro, sicurezza, videosorveglianza, periferie e aumento dei vigili urbani. Ieri con le nostre telecamere abbiamo seguito la presentazione della lista Teodoro in Comune a Pescara. Andiamo a vedere il servizio di Ludovica Pelliccioni. Quali sono le linee guida del suo programma? Il primo è la sicurezza urbana, il secondo è la riqualificazione dei quartieri periferici ed il terzo è il rilancio dello sviluppo economico di questa città e quindi l'occupazione. Il primo punto dobbiamo potenziare notevolmente il corpo di polizia municipale attraverso i suoi uomini e rendere operativo il progetto di videosorveglianza che sarà un progetto che controllerà la città di Pescara ovunque e dappertutto. Nel potenziamento, come dicevo prima, della polizia municipale avremo anche il potenziamento del gruppo Giona, questo acronimo di gruppo intervento operativo nucleo antidegrado che già ha vinto il primo premio ANCI nazionale e dove molte città italiane ci stanno imitando. Quindi oggi sono costituiti da 13 uomini, porteremo il gruppo a 40 uomini. Terzo punto, nella città policentrica, il rilancio appunto non più un unico centro ma più centri nella città, da nord a sud, da ovest, quindi più luoghi di aggregazione e lì anche nasce il rilancio economico della città e quindi la nuova occupazione. Dobbiamo coniugare questi tre aspetti per rilanciare la città di Pescara. Che squadra la fiancherà? Una squadra di uomini capaci, all'interno della squadra ci sono già amministratori consolidati con esperienza robusta e in più ci sono nuovi candidati che rappresentano al meglio la società civile. Nella nostra lista non c'è un solo candidato che non ha il lavoro, tutti lavorano, prevalentemente sono operatori di aziende, altri sono impiegati in altre realtà pubbliche e private. Bene, questo dimostra che c'è una volontà a capire come meglio in questa città costruire il lavoro, loro che hanno il lavoro e che sono abituati a costruire il lavoro. I candidati a sindaco di Pescara oggi si confronteranno sul 25 aprile, primo faccia a faccia a Villa De Risis, le cerimonie, pranzo solidale, poi la marcia antifascista. Vedete poi in basso un altro titolo, Movimento 5 Stelle a Villa Sabucchi con i cittadini, incontro oggi con gli aspiranti sindaco di Pescara, Erika Alessandrini e di Montesilvano, Raffaele Panichella. Andiamo avanti, domenica il tour dei ponti, i ciclisti invadono le strade, a Pescara testimonial della decima edizione il campione olimpico di pallanuoto Marco D'Altrui, raduno alle 9.30 di fronte al comune, la FIAB annuncia premi e sorprese. E da oggi a domenica parte sotto costa il salone della nautica al porto turistico di Pescara. La panchina di Felicetti, Parco Villa Sabucchi, inaugurazione dedicata al senatore Nevio Felicetti. Andiamo avanti, siamo a Montesilvano, come Pescara anche Montesilvano si prepara al voto, Maragno capolista di Forza Italia per De Martini, se il sindaco uscente si candida a sostegno del suo attuale vice, Umberto Di Pasquale cede il testimone al fratello Francesco. Restiamo a Montesilvano, discariche in via Rimini, l'assessore Cilli dopo il furto monteremo quattro fototrappole, ha detto l'assessore. Festa della liberazione al Museo del Treno, apertura straordinaria con l'esposizione dei mezzi storici della Polizia, alle 9, deposizione della Corona. Ricercatore spoltorese premiato a Vienna, questo è il titolo di apertura di pagina 22, Stefano Renzetti ha ricevuto ieri il premio Harald per le scienze e le tecnologie alimentari, figlio dell'ex sindaco di spoltore Donato Renzetti, insegna all'Università di Wengen. Siamo a Città Sant'Angelo, la cronaca, spaccio in centro, giovane angolano preso con la cocaina. E poi Colle Corvino sfiora il 6 da 142 milioni e con il 5 vince 47 mila euro. Ancora Città Sant'Angelo, Giuliante lega scelte condivise, il coordinatore provinciale replica alle critiche di Gabriele. Ancora Città Sant'Angelo si andrà al voto il prossimo 26 maggio. Restiamo in provincia di Pescara, Pianella, scuola, lavori quasi ultimati, il sindaco Marinelli risponde a Filippone sui cantieri ancora aperti. E a Montesilvano domani la presentazione del libro sul genio di Fellini. Andiamo avanti, semaforo di Pretaro sotto accusa, smog e altri due incidenti. Siamo a Francavilla, l'ex assessore di Pillo sollecita interventi, l'impianto rallenta il traffico e favorisce tamponamenti. Ancora Francavilla, nuovo asfalto in contrada, foro, lavoro, in lavori, in corso. Vediamo poi un'altra pagina del quotidiano Il Centro. Addio all'ingegnere Lupone, l'ultimo viaggio nella sua tocco, folle funerali del professionista che ha progettato in tutta Italia strutture sanitarie e industriali. E poi rissa la partita a tre tifosi del Penne, colpiti da Daspo dopo i tafferugli avvenuti nel corso della gara con il Nereto. Ancora Penne, dopo Notre Dame aiuti anche per Penne. Appello della consigliore aduttilo del Movimento 5 Stelle alla famiglia Pinot dell'Abrioni per la Madonna della cintura. Vestina gas allarga i servizi, siamo all'Oreto a Prutino e diventa S.P.A. E poi vediamo un altro titolo, appalto revocato. Paga il comune, De Luca contro l'ex sindaco. Il risarcimento ci costerà 220 mila euro. Siamo a Manoppello. Andiamo avanti, pagina di Chieti del centro. Emergenza in comune, posti scoperti, poco personale, richiamati. I pensionati, collegamenti a riposo e quota 100, svuotano il municipio. Teatro, 55 mila euro per pagare gli stipendi. Arriva un'anticipazione del contributo comunale, ma il Maruccino continua a cercare sponsor per i lavori. Siamo alla cronaca dalla provincia di Chieti. Pensionato sotto accusa, non arrestato per abusi sulla nipotina, ottantenne, finisce ai domiciliari. E poi vediamo il titolo più in basso. Torricella Peligna, ladri assaltano la scuola, portati via 20 computer. E poi Chieti ruba in villa, non al permesso di soggiorno. Provvedimento del Tar dispone la revoca del titolo per un marocchino dopo il tentato furto nel Chietino. Siamo alla pagina di Lanciano. Rifiuti, modello Lanciano per l'emergenza di Roma. Ranieri, presidente dell'Ecolan, convocato d'urgenza dalla sindaca Raggi. I 5 stelle romani pronti ad affidargli l'incarico di gestire l'azienda locale Ama. Lanciano, ospedale scoppia la polemica. Serve nuovo personale. Tre consiglieri sollecitano la ripartenza dei lavori del nuovo presidio e chiedono che vengano garantiti i servizi dell'ospedale Renzetti. Che va, dicono i tre consiglieri. Potenziato. Andiamo in basso. Ortona, impianto per biomasse a Caldari. La società Aura Energia presenta il progetto in regione. Possibili osservazioni entro il 7 giugno. Siamo a Teramo. Parliamo dello zoo profilattico caporale. Per quanto riguarda la nuova sede, è stato giudicato l'appalto da 17 milioni ad occuparsi della progettazione esecutiva e della realizzazione del primo lotto dei lavori. Sarà il consorzio Ciro Menotti. Andiamo in basso. Furio Salite. Tra genitori alla partita di volley interviene la polizia per riportare la calma sugli spalti nell'incontro Under 16 di pallavolo Montorio-Dannunziana. Vediamo anche la prossima pagina. Provincia di Teramo, siamo ad Albadriatica, le mareggiate devastano la spiaggia a nord. In vista dell'estate c'è molta preoccupazione. Martinsicuro, Vecco, il comitato ambiente risponde ai lavoratori. Vediamo poi a centropagina a Martinsicuro. Gli operatori bocciano la tassa di soggiorno. Corsi, i comuni non perdono occasione per fare cassa. I turisti diventano Bancomat, dice il presidente di Martinsicuro Vacanze. Amedeo Corsi. Andiamo nella parte bassa della pagina. Teramo rissa davanti al pub assolti, cinque giovani a scatenarla alcuni apprezzamenti ad una ragazza. E poi Teramo Mare spaccata al bar del distributore Terra Bianca. Proseguiamo, ancora una pagina della provincia di Teramo. Siamo nella parte sud del litorale Teramano. Vedete Silvi, questo è il titolo di apertura. Via libera al bilancio e alla tassa sulle barche. Confermato l'aumento dei servizi a domanda individuale. Invariati i tributi. Ancora, i dati della Camera di Commercio a Silvi. 102 negozi in più in 8 anni. Comune soddisfatto. Atri, corteo in centro storico. Pineto, letture sulla resistenza. Queste le iniziative in occasione del 25 aprile. Dunque della giornata di oggi, festa della liberazione. Siamo all'Aquila. Verso il primo maggio, presidio a Palazzo Silone. Intex, rimosso il camper della protesta. Dopo 15 mesi, i ricercatori licenziati costretti a sospendere la mobilitazione. In attesa di trovare una roulotte a basso costo. Questo è il titolo di apertura. Poi parliamo dell'accordo. Ora i sindacati chiedono garanzie. Ripresa l'attività, si pensa al futuro dell'azienda. E ballo anche l'ultima tranche del contributo. Invitalia. Marsica, social scatenati. La proposta di nozze arriva su Facebook. La storia d'amore dell'ex calciatore dell'Avezzano, Razio Di Loreto, e della sua compagna da sei anni. Mara Amicuzzi, l'ex bianco verde, dice vorrei celebrare il matrimonio allo Stadio dei Marsi insieme agli amici più stretti. E questa richiesta è arrivata proprio via Facebook. È il giorno della fiera d'Avezzano. Controlli e divieti. Spiegamento di forze con 32 agenti in servizio. Gli ambulanti sono 130. Diverse le strade chiuse. Andiamo in basso per altre due notizie. Strage del mare, il premio giusto l'Isia Roccaraso per il 76esimo anniversario dell'Eccidio di Pietransieri. E poi Prato La Peligna, medaglia di bronzo al partigiano Mondazzi. Siamo alla pagina dell'Aquila e provincia. Siamo a Sulmona, in questo caso per la precisione. Scuola Masciangeli, il cantiere non parte. La ditta che tre anni fa ha vinto l'appalto e chiederà rimodulazione dei costi. A giugno l'avvio dei lavori alla Capograssi. E poi Lotta alla povertà. In arrivo a 200 mila euro i fondi destinati al piano degli interventi. Coinvolti 17 comuni del territorio peligno con Sulmona, capofila. E siamo a Pettorano sul Gizio. L'Orsa Pepina torna e fa strage di galline. Con i suoi tre cuccioli è riuscita ad entrare in un pollaio. E intanto rispuntano le proteste. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Allora ci possiamo fermare per qualche istante. Poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Seconda parte di Mattino 6. Siamo alle pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Trekking, castelli, neve e mare. Pienone nella nostra regione dopo l'ottimo bilancio di Pasqua. Previsioni rose fino al primo maggio. La regione in cima alle preferenze di inglesi, danesi, austriaci e francesi. I signori dell'olio sbancano a Verona. Medaglie e riconoscimenti al Sol. L'olio abruzzese ottiene grandi risultati nella manifestazione del Vinitali di Verona. Che si è chiusa nei giorni scorsi. Siamo alle pagine delle province. Partiamo da Pescara. Anario di fallita alla società Progetto Sport. Ennesi Mattegola sull'impianto natatorio. Mauro Febbo detta la linea. Riprendere l'attività e tutelare il personale. Scegli Pescara. Teodoro suona la carica. Lista unica per andare al ballottaggio. Abbiamo visto prima il servizio sulla presentazione della lista. in vista delle amministrative del 26 maggio dell'assessore uscente del comune di Pescara. Mariotto chieda scusa a mio marito. La polemica. Antonio Razzi fuori da ballando. Demenza senile, dice il giudice stilista. Maria Iesus, moglie del senatore uscente. Antonio Razzi lo attacca in TV. La cerimonia. Siamo a Pescara. Parco Sabucchi. Un albero e una panchina azzurra in memoria del senatore pescarese Nevio Felicetti. Andiamo avanti. Vidi Pescara bombardata. Iniziò la mia resistenza. Parla l'ultimo partigiano. Alle soglie dei 98 anni. Adolfo Ceccherini racconta la scelta della lotta. Antifascista tra Loreto e Penne operavano i gruppi armati organizzati, dice Ceccherini. Dall'avvocato Di Clemente. Ma noi andiamo a vedere il prossimo servizio proprio per fare il punto delle iniziative che si tranno oggi in Abruzzo in vista del 25 aprile di questa giornata dedicata alla liberazione. C'è un panorama molto ricco che inizia dalla mattina alle 9.30 con un tributo ai martiri di Colle Pineta, il cippo della scuola 11 febbraio. E poi ci sono le celebrazioni diciamo ufficiali e istituzionali di Piazza Garibaldi. Poi ci sarà una pièce teatrale bandita e ispirata ai Patrioti della Maiella. E poi nel pomeriggio dibattiti, sport, insomma flash mob. Un panorama ricco e articolato per ricordare una data simbolo della nostra Repubblica che oggi si vorrebbe svilire confinandoli in polemiche politiche assurde. E il 25 aprile è la festa della democrazia, è la festa della liberazione. Se non ci fosse stato il 25 aprile del 1945, oggi probabilmente noi non staremmo qui a parlare, non ci sarebbe la libertà di stampa, i sindaci non sarebbero eletti democraticamente. Tanti valori che non dobbiamo ricordare, che non dobbiamo, scusate, dimenticare, ma al contrario dobbiamo tenere bene a mente la lezione della storia. Per cui la democrazia e la libertà sono stati frutto di un percorso sanguinoso, difficilissimo. La guerra, la resistenza e poi naturalmente la nostra Repubblica che è sorta su quelle macerie, quella del secondo conflitto mondiale. La nostra carta costituzionale che ha recepito i valori, ahimè, conquistati davvero col sangue di tanti. E io penso che non si debbano contrastare con forza rimozioni, per cui si pensa che tutto è scontato, che tutti sono uguali. No, è una scelta di campo molto chiara, democrazia contro il resto. Abbiamo visto il servizio, ne parlava il sindaco di Pescara Alessandrini, eventi per quanto riguarda il capoluogo adriatico a Piazza Garibaldi e Colle Pineta. Poi nel pomeriggio marcia di liberazione, iniziative di Ampi e Comune a Manoppello, si ricorda le Cidio nazista di Pietranzieri. Andiamo a fondo pagina, in un libro i racconti dei ragazzi di Palazzo Perenic, la prima generazione pescaresi di architetti, narra le esperienze nella sede di facoltà dal 1971 al 1986. Vedete una foto di Palazzo Perenic, sede della facoltà di architettura Palazzo Perenic, che si trova in Viale Gabriele D'Annunzio. Di Marco, la tentazione di Bolognano, l'ex presidente della provincia di Pescara, chiusa l'esperienza alla guida di Abbateggio, valuta l'ipotesi di correre a sindaco del Paese. Gas e luci utili in crescita, la vestina diventa SPA, bilancio ok per vestina gas. E poi anche sul messaggero ritroviamo la notizia di questo studioso pescarese, che ha ricevuto il premio Perten, dopo uno studio, una ricerca su alimentazione, sull'alimentazione. Si tratta del pescarese, dello spoltorese, per meglio dire Stefano Renzetti, che ha ricevuto questo riconoscimento accademico in Olanda, ricercatore senior all'Università di Waringen, proprio nei Paesi Bassi. Vediamo poi nella parte bassa, invece, della pagina la cronaca che ci porta a Città Sant'Angelo, cocaina, soldi e bilancino, giovane pusher in manette. Poi il Museo del Treno, ospita auto d'epoca della polizia, il Museo del Treno di Montesilvano. Andiamo avanti, pagina dell'Aquila, del messaggero, isole ecologiche intelligenti, ecco la svolta smart dell'ASM, che raccoglie la sfida della città smart, pronta per appodare in consiglio la delibera relativa al rinnovo del contratto di servizio triennale. La fiction Rai cala negli ascolti un milione in meno di spettatori, delle spettatori, per meglio dire, per quanto riguarda la seconda puntata di l'Aquila Grandi Speranze, in onda su Rai 1. Fossa Santa Maria ad Criptas riapre al pubblico la rinascita di questo importante luogo, dopo il lungo restaudo torna a risplendere infatti il gioiello del XIII secolo e lo scrigno di preziosi affreschi. Depuratore di scoppito, indagati eccellenti nell'inchiesta e poi Amiternum, Capriolo investito e ucciso da un'auto. Andiamo avanti, Parkinson, intervento elimina il tremore. Grazie a elettrodi impiantati alla base dell'encefalo collegati ad un generatore di impulsi posto sotto la pelle nel torace. È stato portato a termine questo importante intervento che elimina proprio il tremore tipico delle persone malate di Parkinson. Il paziente si è riappropriato dell'autonomia dei movimenti di mani e braccia, tornando anche a suonare la chitarra. davvero un intervento storico questo che è stato eseguito all'ospedale San Salvatore dell'Aquila e ieri c'è stata la conferenza stampa proprio del dottor Alessandro Ricci, l'autore di questo intervento che potrebbe segnare davvero una svolta nella cura del Parkinson. Grazie proprio a questi elettrodi che sono stati impiantati proprio alla base dell'encefalo. Andiamo avanti, l'Aquila e Budapest, sorelle nella musica, parliamo di questo evento che unisce Italia ed Ungheria. E poi, una mostra per ricordare Lucio Paolucci all'Aquila si terrà fino al 28 di aprile. E poi, le parole chiave, oltre il decennale del terremoto, la città storica, il tacquino dell'arte, proseguono le iniziative proprio in occasione del decennale del terremoto dell'Aquila. Andiamo alla pagina di Avezzano e Sulmona, partiamo da Avezzano, dunque dalla Marsica, semaforo maledetto, segnaletica falsata, mentre il giudice di pace continua a essere intasato da montagne di ricorsi, si profila una clamorosa novità. Gli avvocati ora impostano la protesta sul fatto che uno dei due segnali a terra è stato cancellato, ma non in maniera adeguata. Avezzano, l'interporto marsicano, una questione annosa, Prato-La Peligna, non dato ieri a Roma, il partigiano Mondazzi, proprio che sarà ricordato tra l'altro oggi in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza del 25 aprile, ci spostiamo a Sulmona, lo stadio Pallozzi, entro l'estate è pronto il campo sintetico, ditta bergamasca si è aggiudicata i lavori per una spesa complessiva di 295 mila euro, Pettorano sul Gizio, Orso fa strage nel Pollaio, Sospetti sull'Orsa Peppina. Andiamo avanti, pagina di Chieti del Messaggero, stadio del Nuoto, il gestore scelto con Bando Europeo, dietro fronte, dopo la relazione tecnica, adesso l'impianto non è più in vendita, si va verso la proroga alla Teatreservizi, ma per pochi mesi le spese sono eccessive. E poi, la festa della liberazione anche a Chieti e in provincia, fra cortei e filmati storici. L'appello su Facebook, investono gatto, parte la colletta per salvarlo e poi passa il giro d'Italia, scattano i lavori sulle strade. Andiamo avanti, andiamo a vedere la prossima pagina in questa parte finale della nostra rassegna stampa. Giochi sporchi, il restato nonno pedofilo, l'ottantenne è stato fermato nel giorno di venerdì santo. E poi Torricella Peligna, razzia di computer alla scuola elementare, indagini in corso e poi San Salvo, Cadegancio, giù i pannelli gravi due giovani operari e poi Ortona, centrali di biometano a Villa Caldari. Infine, estate musicale, dietro front, ecco i fondi. Andiamo avanti, pagina di Teramo del quotidiano in messaggero, troppi detenuti a Castronio, il caso finisce in Parlamento e poi Tribunale, Rissa in centro, assolti i giovani avventori del pub Zoprofilattico, via ai lavori per 17 milioni. Questa è la notizia che ritroviamo anche sul messaggero. Infine, la cronaca giudiziaria, ruba in casa della compagna Prosciolto e poi scontri tra tifosi di Nereto e Penne, scattano quattro d'aspo. Vediamo la pagina della provincia di Teramo, l'ex insegnante spunta, vecchia inchiesta, Roberto Sciarra ancora non si trova, nel 2012 fu coinvolto in un traffico di sostanze dopanti assieme ad altri pescaresi, per quella vicenda il quarantenne fu anche rinviato a giudizio, ieri vertice in Prefettura per stabilire se continuare le ricerche. Mercatone 1, giornata di sciopero, iniziativa concomitante alle altre sedi abruzziesi consorelle dopo il tavolo al Mise, siamo a Giulianova comunali, la sinistra torna in ordine sparso e poi invece Martinsicuro veco, nuovi problemi dagli inquinanti, Giulianova bandiera blu ma prelievi negativi in mare, infine Giulianova ancora padre salva la figlia dal soffocamento. Siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme prima di parlare di sport le pagine interne del quotidiano la città misurato l'evento più raro dell'universo laboratori nazionali del Gran Sasso in prima pagina su Nature per l'esperimento sulla materia oscura Xenon IT andiamo poi in basso area archeologica aperte nel ponte della liberazione nella nostra regione Teramo presentato il ricorso sull'asta della Teramo Ambiente l'imprenditore Teramano Iachini contesta la partecipazione dell'ex socio Stefano Gavioli e poi Carapollo camion perde carico di inerti guado sul Tordino impraticabile vediamo anche la prossima pagina con il master plan dell'istituto zooprofilattico caporale tutto un cantiere alla nuova sede sperimentale di Collaterrato va a gara il lotto bis avviati intanto i lavori a campo Boario e poi tirato a lucido il monumento ai caduti a terra in occasione della festa di oggi per la liberazione e poi Castronio oltre i limiti del bene e del male l'onorevole Pezzopane porta il caso del sovraffollamento del carcere sul tavolo del ministro della giustizia Buonafede e poi Teramo Culla del motosport abruzzese sabato autostoriche sul corso e presentazione di macchine precipitose all'ipogeo imprese la Camera di Commercio mette in guardia dall'inganno dei bollettini vediamo ancora la prossima pagina domenica torna la festa dei trionfi nel corteo storico i figuranti dei quartieri cittadini e i giovani delle scuole superiori intanto sono stati resi noti i dati sull'edilizia compravendite di case più 9% cooperative edili a meno 3,3% siamo a Canzano al via lavori sulla maxifrana in centro affidato il primo lotto per l'abbattimento dei palazzi e la realizzazione di una nuova strada d'accesso in basso Vestina Gas approva il bilancio e diventa una SPA introdotta anche l'offerta di energia elettrica destinata a circa 13 mila clienti di alcuni paesi del Terramano al confine con la provincia di Pescara siamo alla pagina della Val Vibrata 4 d'aspo per la rissa sugli spalti fra tifosi di Nereto e Penne e poi l'evento anche i ristoratori abruzzesi alla cena a 10 mani blackout niente internet e telefono in mezza Val Vibrata il guasto provocato da un cavo tranciato durante i lavori lungo la statale 259 siamo alla pagina di Giulianova la politica le amministrative saltato l'accordo nel centro-sinistra chiusa la strada che portava l'unità i candidati sindaco saranno 3 e intanto l'ex sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro torna a farsi sentire per festeggiare la bandiera blu assegnata a Giulianova in basso proprio a Giulianova i ragazzi danno il buon esempio e puliscono il porto la pagina del litorale della provincia di Teramo Atri festeggia la liberazione con corteo eventi e passeggiate nella giornata di oggi Rosetto degli Abruzzi Maxipiano per la manutenzione del verde iniziati i lavori sul lungomare sud con la rimozione delle palme malate e poi Rosetto ha rinnovato l'organigramma dell'associazione Il Foro andiamo avanti la prossima pagina siamo sempre in provincia di Teramo a Silvi per la precisione ha approvato il bilancio di previsione e posizione all'attacco sulle tasse e poi a Villa Filiani a Pineto la personale di Mark Costabi andiamo a vedere anche l'altro titolo che ritroviamo in basso torniamo a Pineto commemorazioni e riflessioni per la liberazione manifestazione nel borgo antico di Mutignano di Pineto in ricordo dei caduti del marzo 44 liberazione una parola che non smette di essere bellissima vedete questa pagina dedicata pagina della cultura dedicata proprio al 25 aprile del 1945 l'Italia fu liberata dal pattume nazifascista quei valori oggi sono più che mai importanti vedete questa foto con questa pagina con le foto d'epoca proprio del 1945 siamo arrivati allo sport partiamo dai quotidiani sportivi nazionali cancellati Coppa Italia una grande Lazio vince a San Siro batte il Milan e vola in finale di Coppa Italia e poi Roma Conte incontri ravvicinati venduto il Palermo la società ad una cordata italiana vediamo anche la gazzetta dello sport piccolo diavolo Lazio Paradiso in finale brutto Milan ieri sera vittoria meritata per i bianco celesti e poi vedete ultra Lazio in azione stricione per il duce e bu a Baiacoco giocatore del Milan infine tutto sport ringhio Lazio perché la Lazio batte il Milan di Ringhio Gattuso e approda in finale Inter Juve che storie sabato la partitissima almeazza ma la sfida continuerà anche sul mercato andiamo a vedere le pagine dello sport del centro e partiamo proprio dalla Coppa Italia vedete Milan Lazio 0-1 Gattuso no alibi abbiamo fatto una figuraccia brutta partita giocata dai rossoneri corre a gol la Lazio in finale la reta al tredicesimo del secondo tempo e questa sera c'è Atalanta Fiorentina vedete in basso la vincente chi passerà il turno affronterà proprio i Romani nella finale di Coppa ricordiamo oggi gli 80 anni di un grande del calcio italiano Tarcisio Burnic la roccia dell'Inter e dell'Italia oggi compie 80 anni è stato nel 2001 per 5 partite anche allenatore del Pescara in una stagione a dire il vero non molto fortunata e parliamo proprio del Pescara perché c'è il Verona pronta la carica dei 10.000 contro i gialloblu ci sarà il nuovo record stagionale di presenze tifosi mobilitati alle 11 partenza dal piazzale della stazione centrale Colile Corteo che poi raggiungerà lo stadio in attesa dell'arrivo della squadra buone notizie una volta tanto in questi ultimi tempi dall'infermeria del Pescara Monachello Marras e Canutè in gruppo potrebbero essere dunque della gara con gli scaligeri e poi in basso parliamo proprio del Verona Grosso riavrà Gustafsson in mediana lo svedese a rientro dopo la squalifica l'ex pescarese Crescensi migliora ma andrà in panchina vediamo la pagina che riguarda il Teramo Pacini lancia il Teramo possiamo battere tutti il portiere playoff la nostra portata ma dobbiamo restare concentrati allora noi possiamo andare ad ascoltare a proposito del Teramo le dichiarazioni del portiere Biancorosso proprio alla vigilia della gara che il Teramo giocherà in casa della vice capolista del Girone Triestina abbiamo fatto qualcosa di straordinario abbiamo ancora due partite per poter migliorare quello che abbiamo fatto però insomma se si ripensa appunto a qualche mese fa tanta roba io quando dico che quando prima ho detto che secondo me abbiamo fatto qualcosa è straordinario lo dico perché in tutti i momenti di difficoltà che il Teramo ha avuto in quest'anno ha dimostrato comunque sempre sapersi rialzare e di rialzarsi in maniera da veri uomini perché comunque dopo la sconfitta di Fano abbiamo fatto una grande partita con il Monza dopo il Verona abbiamo vinto con la Giana dopo Pordenone abbiamo ribaltato una partita sabato e comunque per come si era messa era veramente difficile quindi a maggior ragione appunto dopo tutti questi avvenimenti credo che il lavoro fatto appunto sia straordinario e bisogna secondo me solo fare un applauso a questo gruppo perché voi me lo potete confermare insomma nell'annate precedenti avete sofferto un po' di più rispetto a quest'anno quindi sicuramente c'è una squadra anche che sulla carta potevano essere più forti di questa perché comunque tanti giocatori che siamo qui siamo alla primavera esperienza da non titolari però comunque da che stiamo giocando un po' di più ecco ma Saveriano ci ha dato una grande mano ci si sta a prendere in giro anche perché voglio dire ha segnato colpe santi e ci ha aiutato a portare punti a casa molto importanti però io mi voglio soffermare anche su un'altra cosa secondo me da gennaio un poi grazie anche al mercato e alle persone che sono arrivate ci siamo uniti ancora di più e abbiamo seguito totalmente al 100% le direttive che venivano dal mister e dallo staff tecnico e questo ci ha permesso anche di fare dei risultati che magari potevano essere aspettati perché noi abbiamo dimostrato che se facciamo le cose come le prepariamo come ci dicono di farle e come le dobbiamo fare noi possiamo vincere con tutti appena molliamo un attimo rischiamo di prendere le imbarcate con chiunque quindi oltre a Saveriano io credo che anche ci sia tanto merito da parte del mister e dello staff il lavoro del mister credo sia sotto gli occhi di tutti è stato un mister che comunque è stato anche abbastanza criticato e magari il carattere che ha siamo simili siamo persone veraci persone impulsive quindi a volte può anche rimanere antipatico però il lavoro che ha fatto con il gruppo con lo spogliatoio con l'ambiente secondo me è stato un lavoro che ha portato i suoi risultati e bisogna solo fargli complimenti è chiaro che se dovesse vincere il Monza si aprirebbe lo scenario che l'undicesima vada a fare i playoff se non dico una capolata giusto quindi chiaramente se dovesse vincere il Monza avremmo un'opportunità in più però ripeto abbiamo queste due partite per provare a fare più punti possibili e poi vediamo quello che succede abbiamo visto l'intervista le dichiarazioni del portiere del Terramo Pacini parliamo di serie D domenica si terrà l'importante scontro salvezza del Girone F tra Vastese e Davezano allo stadio Aragona di Vasto 70 biglietti riservati ai tifosi marsicani gara a rischio per motivi di ordine pubblico e poi palla a mano il portiere con le luori da Città Sant'Angelo fino al Nant finirà la stagione nel Cingoli e poi si trasferirà in Francia parliamo anche di palla a nuoto sabato in Vasca ad Avezzano il Pescara il tecnico Malara suona la carica non roviniamo una grande stagione Pescara che giocherà ad Avezzano per l'indisponibilità come abbiamo visto prima delle piscine le naia di eccellenza il caso i tifosi del Chieti contro Di Giovanni lascia la società scatta la condensazione degli ultra nei confronti delle patron che parlano di gestione inadeguata e intanto per quanto riguarda il campionato di eccellenza ultimi 90 minuti di passione alle 15 si gioca infatti l'ultimo turno playoff e playout ci sono ancora dei posti da assegnare Cacciagrano carica il Sambuceto promozione Lanciano e San Gregorio si contendono la coppa alle 16 al di Febo di Silvi di fronte a due squadre con motivazioni diverse i frentani cercano l'accoppiata con il campionato gli aquilani vogliono rendere intimenticabile la stagione vediamo anche il calcio giovanile spiagge d'Abruzzo Cup sfilata di talenti oggi oltre 150 squadre di 4 categorie per la ventrittesima edizione del torneo organizzato dall'associazione sportiva Roseto del presidente Cerasi vediamo anche il tennis Zappieri Gaio e Travaglia la carica degli italiani agli internazionali d'Abruzzo di Francavilla al mare poi vediamo anche il rugby torna Lofrese per cercare di salvare l'Aquila domenica ultima giornata della serie A di rugby l'imperativo è vincere per evitare i play out vediamo lo sporto sul messaggero la spinta di Ganci battere il Verona parla l'ex bomber del Pescara eroe della finale play off 2010 contro l'Ellas tifosi del Pescara che ricorderanno per sempre quel gran gol di Ganci nella partita dello stadio Adriatico con quella conclusione da oltre 30 metri con il pallone all'incrocio dei pali Piloni ritrova Scogliamiglio Scaligeri intanto in ritiro tifosi mobilitati come detto per la gara di sabato all'Adriatico alle 15 parliamo anche di basket di serie A2 capitano Pieric Roseto merita 8 entusiasmo per il traguardo raggiunto dei play off parliamo anche del Teramo Infantino e Maurizio veri leader l'analisi del portiere del Teramo Pacini lo abbiamo appena ascoltato il mister ha creato un gruppo molto solido parliamo anche di tennis agli internazionali di Francavilla fuori gli abruzzesi vedete poi come ogni giovedì la mezza pagina del messaggero dedicata al calcio provinciale della Wisp di Pescara e chiudiamo con lo sport sul quotidiano la città ecco qui la pagina che riguarda il Teramo Teramo hai fatto qualcosa di straordinario Pacini da terzo ormai titolare inamovibile il lavoro del mister è sotto gli occhi di tutti tennis di Sciascio e Pepe protagonisti al Foro Italico di Roma i due atleti del circolo tennis di Atri sono campioni regionali di doppio di quarta categoria e adesso saranno agli internazionali BNL parliamo anche del campionato di eccellenza in campo oggi per gli ultimi decisivi 90 minuti il Martinsicuro torna mestamente in promozione mentre la Torrese è matematicamente seconda vediamo anche il ciclismo prima di salutarci ciclismo a Civitella del Tronto per la festa della liberazione nel centro vibratiano si corre il trofeo Madonna dei Lumi tra le manifestazioni più antiche della nostra regione siamo così giunti veramente al termine dell'appuntamento di oggi del 25 aprile con Mattino 6 Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8 io ringrazio Loris Bennato in regia ringrazio voi per averci seguito vi rinnovo gli appuntamenti sulla nostra rete per quanto riguarda l'informazione alle 14 per la prima edizione del nostro telegiornale questa sera alle 21 come ogni giovedì l'appuntamento del ciclismo con velo Luciano Rabbottini e Jacopo Forcella in studio buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.